. Kevin Spacey, i terroristi sono solo isolati perdenti . In una Roma blindata, con la paura sempre altissima di attacchi terroristici, all'indomani di quelli terribili messi a segno a Barcellona, è arrivato Kevin Spacey, per presentare il brillante Baby Driver di Edgar Vringt. . L'attore in questa occasione ha parlato anche di terrorismo, e senza usare mezze parole ha sottolineato di non sentirsi affatto minacciato durante la sua permanenza in Europa, non sono d'accordo con chi dice che Londra o l'Europa siano sotto attacco. . . Si tratta di isolati perdenti che scelgono la via più facile per fare del male alle altre persone. Spacey poi ribadisce, non siamo sotto attacco, ai media piace raccontare questa cosa, ma non è vera. . Per quanto sia terribile e doloroso vedere tante persone soffrire per i loro cari morti o per i feriti, non si tratta di un continente o di città sotto attacco. . . E come risponderemo a tutto questo a dimostrare che non siamo sotto attacco? E, alla fine, tutto andrà bene. . . Rilassato e molto disponibile, il celebre attore ha poi raccontato del suo rapporto con il cinema, del destino dei suoi ruoli ed anche del suo attore mito, ovvero Jack Lennon. . Se sofferma anche sul suo rapporto con i giovani attori, penso che non abbia nulla da insegnare a nessuno. Quando io ero giovane la mia lezione più grande era quella che mi veniva dall'osservazione di personaggi come Jack Lennon. . 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